Ultimora ben ritrovati amici rossoneri anche dal Lego, eccoci qui come state, buona giornata di nuovo, vi ricordo come sempre lo faccio all'inizio di ogni video perché è importante iscrivervi qui in questa zona, attivate la campanella mi raccomando e lasciate un bel like qui sotto. Da grandi cuori rossoneri abbiamo superato i 60.000 iscritti e adesso puntiamo i 70. Piano piano arriviamo anche ovviamente a 100. Questa mattina vi ho dato il buongiorno con un video che se non avete ancora visto potete vederlo al termine di questo in cui vi ho raccontato appunto un intrigo tra Ziyech e Berardi. Più tardi credo avremo altri aggiornamenti di mercato ma andiamo su quest'ultima ora che riguarda Frank, che sì, il nostro presidente. Ovviamente la notizia che tutti aspettiamo quest'estate è sicuramente il rinnovo che stiamo provando a concludere, a formalizzare. Adesso affrontiamo il discorso rinnovo, mi voglio togliere anche qualche sassonino alle scarpe non nei confronti vostri ma nel senso ci sono alcune cose che non mi stanno tanto piacendo e l'ultima ora però riguarda il fatto che lui abbia appena segnato, o meglio, abbia appena finito la partita, ha vinto 2-1 la Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita 2-1 la sua nazionale in vantaggio, poi c'è stato il pareggio, poi ha segnato che sì appunto e c'è stata un'espulsione nel finale 2-1 che ci fa fare qualche riflessione. Intanto il gol, il gol, palla recuperata a centrocampo, portata in avanti, riceve che sì al limite dell'area ed udile l'intervento dell'avversario facendo passare la palla sotto le gambe e sotto la sua la se la gira sistema con un tocco e con un bel diagonale di sinistro va sul palo a incrociare, davvero un gran bel gol di Frank che sì, che dimostra di essere insomma un giocatore molto 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 importante. La prima considerazione che facciamo, non inerente al contratto, è che quindi la Costa d'Avorio ha in questo momento 3 punti adesso inizia la partita tra Germania e Brasile che sono le altre del girone di a cui lui appartiene adesso la sua nazionale va a 3 punti. Ovviamente da milanisti siamo un po' egoisti, dobbiamo esserlo per carità di cose a parte magari qualche milanista ivoriano che quindi spera che la sua nazionale vada avanti noi ci auguriamo che finisca prima questa Olimpiade così che lui possa tornare, fare la preparazione con il Milan e dedicarsi magari a fare la firma al rinnovo. In questo caso questa vittoria sicuramente è importante per loro non è detto che però vada avanti, adesso giocheranno il 25 e poi il 28 essendoci due nazionali importanti come, scusate, non la Francia di Calullo che ha giocato ma come Germania e Brasile può far comunque uscire e far arrivare terza la sua nazionale quindi il 28 finisce e lui torna il 30 sostanzialmente a Milano e inizia la stagione la preparazione con il Milan, il suo precampionato e speriamo metta anche la firma quindi vediamo come vanno anche le altre due, giocherà poi il 25 e il 28 sicuramente la stella della Costa d'Avorio gol importante. Che può cambiare qualcosa a livello di mercato? No, non credo, nel senso che chi conosce che sì non cambia idea o viene incoraggiato a provare a tentarlo per un gol seppur bello fatto alle Olimpiadi, quindi no. Diciamo che non credo neanche che a Tangana adesso chieda 500 mila euro in più. Sapete che il procuratore dà ieri a Milano abbiamo dei rumors e abbiamo letto anche alcune cose particolari secondo me oggi il core sport, tutto sport scrivono giustamente in arrivo l'incontro Milano offre 5 e mezzo 6 no, la gazzetta però secondo me che ha un filo, una riflessione che faccio a voce alta ha un filo un po' più con a Tangana, scrive sempre di offerte inglesi oggi scrive adesso è giallo, no perché è giallo, è arrivato ieri il procuratore e si incontrano probabilmente senza che la cosa venga subito comunicata è giallo perché non filtra più nulla, no non è un giallo, anzi è una cosa buona e giusta che non filtri nulla né da una parte né dall'altra significa che siamo nella fase bollente della trattativa con il Milan che riconosce i 5 e mezzo 6 e il procuratore che speriamo possa dire va bene non abbiamo richieste diverse rispetto a quelle di un mese fa con il giocatore che aveva promesso Maldini di voler restare con il rinnovo e speriamo si vada i fatti non so, la gazzetta ha sempre questa visione un po' del giallo però ci sono le sirene inglesi addirittura oggi viene scritto che il Milano offre 4 milioni dai non scherziamo, il Milano offre 4 milioni inizialmente offriva 4 milioni ma chiaramente oggi è arrivato a soddisfare quelle che erano le richieste sue di un mese fa se lui non rilancia adesso la cosa si può fare vi ho sempre detto che Maldini era convinto di poter chiudere il discorso ora, se poi viene detto l'incontro settimana prossima no, no, l'incontro è non dico che è stato ieri ma l'incontro probabilmente oggi magari c'è in questi minuti magari c'è nel pomeriggio al più tardi domani saranno anche una serie di incontri non esiste che a Tangana venga qui a Milano ieri per fare un incontro mercoledì settimana prossima no, ovviamente l'incontro è imminente quando abbiamo parlato con Massara ci ha detto che diversi incontri sono stati fatti che non tutti siamo venuti a conoscenza non ne siamo venuti a conoscenza di tutti meglio così se le cose si fanno in silenzio è una cosa che secondo me è positiva speriamo che possa arrivare la fumata bianca imminente ieri è circolata questa voce secondo cui si stia lavorando si sia quasi raggiunto un accordo per due anni più di contratto cioè arrivare al 2024 il che in una situazione in cui tutti puntano di arrivare a zero secondo me non sarebbe affatto male ad esempio il traditore ha fatto un contratto di tre anni non di cinque, quello dall'altra parte e quindi se questa è la durata può andare benissimo significherebbe stare tranquilli almeno un anno e mezzo che di questi tempi credetemi non è affatto male io ho provato a fare delle verifiche zona Milan e non mi è stato né confermato né smentito però mi è stato detto che potrebbe essere una ricostruzione abbastanza aderente la realtà è tutto sommato positiva visti i tempi vi riporto quello che quindi ho potuto raccogliere pur parziale sono ore caldissime e devo dire che si decide il futuro di che sì il Milan è convinto di chiudere se poi il suo procuratore non farà dei discorsi diversi e non farà sostanzialmente anche un po' lo scorretto di turno visto che aveva chiesto se il Milan a sei arriva e quindi cerchiamo di chiudere magari valutando durate non sarebbe male per quanto mi riguarda mettere anche una possibilità di rinnovare per un altro anno come succede in Inghilterra con il Cessi come ha fatto con Giroud e Bakayoko magari considerando degli aumenti i bonus, tutto quello che volete però ecco la volontà di tutti spero è quella di andare avanti quindi gol di Chessi che però non sposta nulla sperando non sposta nulla neanche nel passaggio di turno non ce ne vuole refrenca ma noi speriamo che tu torni a Milano il 29-30 così che metti la firma e il discorso rinnovo stiamo abbastanza tranquilli nel senso che c'è la tensione giusta dei momenti cruciali però ecco non pensate che l'incontro sarà settimana prossima l'incontro è adesso è adesso nel senso oggi al più tardi domani e magari ce ne saranno anche diversi non sarà un incontro solo sicuramente non si incontreranno tra 7-10 giorni come qualcuno ha anche ipotizzato quindi tranquillità adrenalina perché siamo nelle zone appunto caldissime ripeto gol bellissimo di Frank Chessi se non lo avete ancora visto potete andare a vederlo così come il video di Milanello di questa mattina con l'intreccio Ziyech Berardi vi spiego come e perché iscrivetevi qui numerosissimi lasciate il like se vi va abbonatevi qui sotto e tardo pomeriggio barra barra sera faremo una diretta esclusiva per gli abbonati come promesso qui sotto mi raccomando fatelo anche voi se vi va ciao ragazzi e grande 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 Frank però esci subito mi raccomando ciao 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 Grazie a tutti.